I sentieri del Monte Tresino ad Agropoli questa mattina si sono risvegliati di un bianco candore. A immortalare questo spettacolo della natura è stato un cittadino agropolese, Pietro Faniglione. Come si può vedere dalle immagini, il bianco della neve spicca sullo splendido colore blu del mare della Baia di Trentova, dove risalta anche lo scoglio del sale, tra i sentieri innevati anche dei cavallucci, immersi tra il verde della vegetazione. Innevati anche i monti circostanti, dove in questi giorni la neve è caduta sulle località più interne del comprensorio occidentano e valdianese, regalando paesaggi innevati anche lungo le località costiere. Chissà che in questi giorni, con il persistere delle basse temperature, la natura non ci regali ancora una volta questi splendidi scenari, anche in città, proprio come accade nel mese di febbraio dello scorso anno, quando gli abitanti della cittadina hanno potuto ammirare un'agropoli completamente ricoperta dalla neve. Si trattò di un caso eccezionale, reso possibile dalle basse temperature di quel periodo, e grazie alle abbondanti precipitazioni nevose che interessarono non solo la città di Agropoli, ma un po' tutto il Cilento.